Musica Ben ritrovati ad una nuova puntata della Voce delle Istituzioni. Nostro ospite in studio oggi è Luca Cosul Cofaro, presidente di CIA Belluno, che è la Confederazione Italiana degli Agricoltori. Bentrovato, presidente. Grazie mille. Confederazione Italiana Agricoltori che lavora, si adopera quindi per il progresso dell'agricoltura, per la difesa dei redditi e le pari dignità degli agricoltori nella società. Questa è proprio la vostra mission. Partirei, presidente, col ricordare soprattutto quello che è stato un anno difficile per tutti quanti noi, oltre un anno ormai, ossia quello della pandemia, e quindi anche come le realtà che voi rappresentate sono state in qualche modo toccate da questa esperienza. Beh, allora, sicuramente possiamo partire con i nostri agriturismi, che sono quelli più toccati, che hanno avuto più sofferenza nell'ultimo anno, anno e mezzo, diciamo, perché con le varie restrizioni sicuramente non hanno potuto lavorare a pieno regime. Adesso speriamo che con la nuova stagione riapri, possiamo dire che speriamo anche che si possa mangiare all'interno, perché per noi è un grande limite, perché finché parliamo della zona di pianura e mare, ci può stare anche a mangiare fuori, è anche bello sicuramente se c'è una bella compagine intorno. Però se noi parliamo delle nostre malghe, dei nostri agriturismi in provincia di Belluno, siamo molto limitati col tempo e con le temperature che quest'anno, con questo inizio di primavera, sicuramente non stanno aiutando i nostri agriturismi. Non hanno sofferto solo gli agriturismi, ma anche le nostre aziende con punti di vendita diretti in azienda, perché cosa vuole? La gente con questa pandemia cercava di andare su un posto dove trovava il tutto, senza muoversi giustamente di qua, di là, di su, perché non si poteva neanche con queste restrizioni. Quindi le nostre aziende che magari sono un po' delocalizzate esternamente, con i loro punti di vendita ne hanno sofferto molto. Però hanno sofferto anche le aziende, quelle là più grandi, strutturate, diciamo che possono conferire alle nostre grandi cooperative del territorio, perché? Perché logicamente ne hanno risentito anche le vendite, le grandi cooperative. In questo anno così difficile, antalenante, ci sono stati momenti che è andato bene, momenti che siamo andati giù malissimo, quindi... È tutto un circolo collegato, vero? Dopo il problema anche grave che è andato ad aggiungersi, non so se causa pandemia, non so se causa speculazioni, le materie prime sono andate su alle stelle, dai vari nostri alimenti come il mais, la soia, sono schizzati ai massimi storici, ma anche se uno dovesse fare degli investimenti strutturali, guardiamo il prezzo del ferro o dell'acciaio o semplicemente anche il legname, ha un costo assurdo adesso andare a affrontare un investimento. Quindi veramente le nostre aziende stanno passando un momento, diciamo, difficile. Speriamo che lo Stato o comunità europea affronti al meglio la situazione, non con solo proclami, ma con anche delle azioni formali vere, diciamo. Ecco, infatti, gli aiuti che ci sono stati fino adesso, diciamo, come li valutate? Allora, gli aiuti sono stati, a mio dire, come anche imprenditore agricolo e anche gestore di un locale, sono stati molto scarsi, perché alla fine della FIAD dal punto di vista dello Stato, sì, sono arrivati quei mille euro a random, così, che dovevano arrivare, dopo c'è stato l'aiuto per gli agriturismi da parte della regione con 5 mila euro e per le aziende normali mi sembra che si parli di un mille o sui mille euro le aziende zootecniche normali. Quindi può anche capire che su una perdita di fatturato, che si parla di migliaia di euro, sì, piuttosto di niente va bene, però è come una goccia nel mare, diciamo. Quindi, c'è veramente come associazione spingiamo molto che ci siano delle azioni forti e significative per questo settore, perché è un settore che lavora a 360 gradi, dà la gestione dell'ambiente in primis, però diamo delle rate alimentari, però diamo servizi, però diamo anche svago e turismo alle persone che può essere. Quindi le nostre aziende lavorano su più settori, se noi stiamo a vedere, sempre con una linea comune che è l'agricoltura, però offriamo servizi a tanta gente e persone. Quindi onestamente speriamo che si elimini un po' questa burocrazia, perché magari anche i fondi ci sono, magari, però per andare a reperirli quindi veramente è una cosa difficile, difficile, dopo non c'è una linea costante, perché se uno dice bisogna fare così, 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 così si fa, però magari la settimana dopo stravolgono il tutto. Sì, questo è stato il grande problema, anche dell'incertezza un po' in generale che c'è stato in alcuni momenti, insomma, di questa pandemia che ha comportato sicuramente delle ulteriori difficoltà. Senta, Presidente, lei parlava prima delle temperature rigide che creano in montagna delle situazioni ulteriormente difficili per quello che può essere l'attività della ristorazione di un agriturismo. Questo inverno così, questa primavera ballerina, ecco, questo inverno che diciamo un pochino si trascina, ha delle ripercussioni anche per le colture. Certo, allora, l'inverno ci sta che sia freddo, anzi, bisogna, perché così il terreno si può riposare, si può riprendere per una nuova stagione vegetativa. Il problema è stata questa primavera che è partita abbastanza secca, siccitosa inizialmente e con temperature ancora fredde, con anche ghiacciate, con gelate tardive che hanno rovinato soprattutto le piante da frutto e viti. E dopo, adesso, stiamo andando avanti con un periodo anche troppo, troppo, troppo piovoso, però sempre freddo, che quindi anche sulle nostre culture a pieno campo, come il mais o soia o anche i prati, ne stanno risentendo molto. Quindi, diciamo che la stagione non è partita al top anche dal punto di vista vegetativo, se stiamo a vedere. Com'è organizzato, appunto. Diciamo, parlando di agricoltura, parlando di innovazione, vediamo che sempre più prende piede anche in provincia l'attenzione proprio verso il biologico, verso questo settore. Ecco, qual è il suo punto di vista su questo, Presidente? Ma allora, secondo me le nostre aziende, più che un dovere, bisogna, bisogna anche come dal punto di vista morale, portare avanti una gestione consapevole del nostro territorio e giusta. Però, voglio dire, le nostre aziende finora, secondo me, sono un grandissimo esempio di biodiversità e di ottima gestione del territorio. pensiamo alla nuova PAC, stanno parlando di un 25% delle superfici che dovrà passare al biologico. Questo sicuramente non è un problema della provincia di Belluno, perché tutti i nostri prati e pascoli sono già biologico, perché con la compensativa, un contributo che noi tiriamo dalla... sì, che andiamo a percepire da VEPA, abbiamo già il vincolo di non usare pesticidi, di non usare concimi chimici, quindi già la gran parte della superficie di provincia di Belluno è già biologica, se stiamo a vedere. Dopo, sulle carte, forse bisognerà lavorare per fare qualcosa che renda più facile la conversione, perché noi abbiamo sei mesi di conversione e dopo siamo biologici in confronto ad altre culture che possono avere fino a due anni. Però bisogna eliminare un po' questa burocrazia, secondo me, e fare una cosa accumulativa di tutto il territorio. Dopo, sulla gestione degli allevamenti e così, possiamo migliorare magari sull'aspetto di vista dei farmaci, quelle cose là, ma sicuramente i nostri allevamenti non sono intensivi. Sono già ben... Sì, quindi sicuramente abbiamo un numero ridotto dell'uso del farmaco. Per vedere la biodiversità, secondo me, più che tutelare nuove forme di imboschimento o gestione della fauna selvatica, secondo me bisogna tutelare proprio gli allevatori, gli imprenditori agricoli, perché se noi tuteliamo loro c'è la biodiversità, perché se non ci fossero gli allevatori o gli imprenditori agricoli, basta vedere in molte parti delle nostre terre alte, c'è solo bosco, quindi non stiamo neanche più a parlare di biodiversità. Su un prato, in confronto a un bosco c'è la biodiversità, perché una zona è prato, una zona è bosco, ci sono delle essenze floreali, ci sono delle specie di piante e animali, insetti. Se noi facciamo tutto bosco non c'è più la biodiversità, quindi secondo me per fare tutto ciò bisogna proprio tutelare e dare garanzie ai nostri imprenditori agricoli, perché lavorare sicuramente su territori difficili, con pendenze, con difficoltà a reperire materie prima, prima, basti solo che pensare, un imprenditore di Livina Longo gli costa molto di più il Mangime in confronto a uno di Padova. Certo, le difficoltà della montagna ovviamente. Quindi già là ci sono costi logistici diversi, quindi dobbiamo proprio tutelare, secondo me, gli imprenditori agricoli se vogliamo una vera biodiversità, perché se no ci saranno solo animali selvatici e bosco in provincia di Belluno. Senta Presidente, i giovani? I giovani? I giovani è una cosa importantissima per la nostra provincia, dare un ricambio generazionale, perché ne parlano anche i numeri e le statistiche, le nostre aziende sono un po' vecchiote, diciamo. Però dal mio punto di vista, come anche giovane, sì è giusto il contributo, è giusto il primo insedio, perché instaurare una nuova azienda è una cosa difficilissima, se hai già un'azienda di famiglia, quindi hai già i tuoi terreni, i tuoi fabbricati, così puoi solo migliorare. Uno che deve partire da zero ha tutta una strada in salita davanti. Quindi secondo me bisogna anche rendere consapevoli dei giovani che cosa gli aspetterà, non solo dal punto di vista lavorativo, ma anche dal punto di vista burocratico, dal punto di vista gestionale di un'azienda, perché abbiamo visto che tantissime aziende che hanno aperto in provincia di Belluno di giovani, forse con progetti un po' campati in aria, hanno percepito i contributi, però l'80% delle nostre aziende hanno chiuso dopo i 5 anni obbligatori, quindi forse perché non c'era un progetto stabile, forte e solido e forse perché si erano fatte anche false aspettative, che dopo nel mondo reale hanno riscontrato in maniera diversa. Quindi secondo me bisogna proprio gestire il giovane e accompagnarlo sull'apertura dell'azienda, non è solo aprire e fare domanda per primi sedi o tot investimenti. Ok, difficile costruire, difficile aprire, però secondo me è ancora più difficile mantenere un'azienda in piedi, l'azienda che deve stare in piedi deve essere solida, con un progetto alle spalle. E tanto lavoro. E tanto lavoro sicuramente. Senta Presidente, siamo in chiusura, però prima di lasciarci volevo farle una domanda, lei ormai è al quarto anno del suo mandato, quindi siamo verso la conclusione che bilancio possiamo fare, come anche la realtà di Cia Belluno si è evoluta anche in questi quattro anni. Beh guardi, come esperienza secondo me è stata bellissima, formativa, perché ho imparato a conoscere delle persone, ho imparato a gestire situazioni che non pensavo di poter gestire prima. Ma cosa posso dire di aver lasciato in Cia? Allora, onestamente quando sono arrivato in Cia ho trovato una situazione dal punto di vista economico che era un po' difficile, perché come piccola associazione del territorio bisogna scontrarsi anche con i numeri. Tutti i nostri competitori di altre associazioni di categoria sono tutte quanti insieme a Treviso, hanno Treviso Belluno. Noi siamo rimasti gli unici che siamo ancora solo Cia Belluno, quindi dobbiamo scontrarci con dei numeri che sicuramente non sono come quelle altre province del Veneto, perché dobbiamo gestire un grandissimo territorio con grandi spostamenti, però come numero di aziende siamo limitati. Avevo trovato una situazione un po' critica dal punto di vista economico, adesso l'abbiamo sistemata e adesso chi verrà al posto mio o se proseguo sarà solo di progettazione futura perché non siamo più in difficoltà economica. E andando avanti sempre con nuovo entusiasmo, con nuovi progetti a favore appunto del territorio dei nostri agricoltori. Per tutelare i nostri imprenditori agricoli. Presidente, io la ringrazio per essere stato con noi, ovviamente le auguro buon lavoro, lei e tutto il suo staff. Grazie mille. A tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto, arrivederci. Grazie mille.